Fratelli e sorelle nerazzurri appena finita Lazio-Inter 1-3 per la Lazio, partita pessima, approcciata male, giocata male, non mi è piaciuta per niente, io l'ho sempre difeso ma stasera le critiche vanno tutte all'allenatore, Inzaghi, non si può approcciare in questa maniera timborosa la Lazio, tu mi fai giocare dall'inizio Gagliardini che è un giocatore imbarazzante per paura di Milinkovic Savic, con Gagliardini non riusciamo ad avere profondità, non riusciamo ad avere gioco, non riusciamo a fare diagonali, non riusciamo a fare nulla, non riusciamo a velocizzare l'azione perché è scarso, perché tu hai paura di Milinkovic Savic e che cosa succede quando approcci in questa maniera? Che prendi legnate e le prendi meritatamente, complimenti alla Lazio che ha vinto meritatamente, complimenti a Sarri che ha vinto la partita, che oggi ha insegnato calcio a Inzaghi perché ha approcciato nella maniera corretta e ha fatto la partita corretta, se avete visto Sarri non si è preoccupato di marcare Brozovic, ha marcato tutti gli altri, lasciava giocare Brozovic e Brozovic non aveva a chi dare la palla, nel frattempo c'ha i Gagliardini che a differenza di Cialanoglu non ti accelera l'azione quindi non ti trova le linee di passaggio e questa è la frittata, che cosa succede? Che poi quando attaccano loro hanno le azioni praticamente già fatte con Di Marco che si dimentica Felipe Anderson nel primo gol, ti illudi per il pareggio di Lautaro, ricomincia a fare la stessa partita di merda che stavi facendo e prendi gol da Luis Alberto con Barella che si addormenta e se lo dimentica, oggi Barella pessimo, pessimo, e il 3-1 praticamente è molto simile da parte di Pedro, sempre a sinistra, l'unico incolpevole oggi è Samir Andanovic che anzi ha fatto anche delle belle parate, ma una partita brutta, io spero che Inzaghi da questa partita impari tanto perché io non voglio vedere un Inter che possa aver paura della Lazio, non è possibile un approccio così timoroso con la Lazio, con tutto il rispetto della Lazio tu sei l'Inter, te la devi giocare, negli ultimi 6 minuti sul 3-1 te la sei giocata e hai creato qualche cosa, ma stiamo scherzando, stiamo scherzando, Lukaku ha toccato pochi palloni, ma siamo sempre là con Gagliardini che non ti velocizza, che non va in diagonale, ma che azioni vuoi creare, ma l'avete visto quante palle ci ha fatto perdere in ripartenza Gagliardini, ma stiamo scherzando, oh Inzaghi ma veramente, io spero che siamo alla terza, non è successo nulla, dei punti me ne frega niente perché siamo a inizio campionato, però non è possibile che puntualmente quando c'è la Lazio tu ti cachi di sopra, ma ti cachi, io capisco che li ha allenati, ma tutta questa ammirazione da cacarti sopra basta, siamo l'Inter, facciamo l'Inter, io una partita come quella di stasera spero di non vederla mai più, io vi saluto, forza Inter, amala sempre!